allora è arrivato il pacco vedete qua è arrivato il pacco adesso io già l'ho aperto dentro ci sta questo vetro un touchscreen touchscreen per il tablet adesso lo porterò dall'assistenza per fare cambiare il vetro perché sono stato però mi hanno detto che non lo faceva io quando io ho detto che il pezzo ce l'avevo io ho detto allora vieni e ti portiamo e te lo sostituisco io l'ho trovato possiamo dire quasi con facilità su internet ecco è arrivato il pacco ecco questo è quello rotto vedete questo è quello rotto e questo è il nuovo che andrà a sostituire questo speriamo